Qual è la fiera più importante in Italia? Inoltre in coinvolgimento della città, è anche un'estensione temporale nel senso che c'è un'anticipazione di play già questo sabato in città, negli istituti culturali e anche in diversi spazi pubblici, piazze e piazzette. L'obiettivo è quello di coinvolgere di più la città, perché la fiera ovviamente viene percepita come distante ed esterna alla città, di coinvolgere i luoghi culturali perché tradizionalmente il gioco non viene associato soprattutto da un certo tipo di cultura alla cultura diffusa, mentre in realtà il gioco a tutti gli effetti ha una dimensione, una componente intelligente che non è appunto il gioco d'azzardo, intelligente per cui è assolutamente opportuno pensare di portare anche il pubblico di play negli istituti culturali, nei musei, nei teatri. Grazie a tutti.